Il prossimo artista è un maschietto, 17 anni, e viene da Ossi, Giacomo Serra! Bravissimo Giacomo! Allora, lui non vuole parlare, mi ha detto non fammi parlare, non fammi parlare, e adesso io lo faccio parlare. Parlaci di te! Allora, studio a scuola e liceo della scienza umane. Canti da sei anni, però non studi canto, mi hai detto, come mai? Non ti è mai capitata l'occasione di scrivere? No, però ci stai pensando. Oggi cosa ci presenterai? Oggi è un mio inedito, scritto da me, musicato da Fabrizio Sanna e arrangiato da Andrea Cossu. Benissimo, come si titola questo inedito? Anima fragile. Benissimo, Giacomo che ci presenta Anima Fragile, un applauso, grazie. 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 Grazie. A chi la volete dedicare questa canzone? A me. Complimenti. Un applauso al Giacomo, una risposta diversa dal solito.